L'enciclica di Papa Francesco Laudato Si sarà oggetto di un interessante evento lunedì poveriggio alle 18.30 presso il Polo Museale Civico di Cerignola nel Foggiano all'Ex Opera, organizzato dall'Associazione Vitalista Fare Ambiente dal titolo Laudato Si sulla cura della Casa Comune. L'obiettivo è quello ovviamente di mettere in evidenza l'invito urgente del Pontefice a rinnovare il dialogo sul futuro del pianeta in un confronto che unisce perché la sfida ambientale deve riguardare tutti. L'evento che sarà presentato da Don Claudio Barboni vedrà tra i protagonisti il presidente dell'azione cattolica diocesana Rito Cagnazzi, Marcello Amoroso del coordinamento provinciale di fare ambiente e il geologo Francesco Bacchelli. I lavori saranno moderati da Luigi Amoroso e coordinerà il vicepresidente provinciale dell'Associazione Anna Maria Losciale.